Per quanto riguarda le tue start-up, mi faceva piacere chiederti dell'evento che si terrà stasera alle ore 19, la Genoa Startup Week. Parlaci di cosa si tratta e di come aderire a questo evento. Molto volentieri, la Genoa Startup Week è la prima settimana di eventi solo sulle start-up. Sono 5 appuntamenti alle 19 al Giardino in Baltimora del TAG. E' la prima volta che tutti i fondatori di rilievo genovesi di start-up si uniscono insieme. Quindi ci sono aziende come Buddyfit che hanno raccolto 10 milioni di euro di finanziamenti, Wisecout che era una delle piattaforme più importanti di scouting al mondo e tanti altri che si uniranno insieme per poterne parlare. Come accedere è molto facile, sono biglietti gratuiti. Purtroppo per la maggior parte degli eventi sono già andati sold out, ma venerdì, quindi domani alle 19, ci sono ancora dei biglietti disponibili per chi volesse venire e tutti gli appassionati di tecnologia o anche solo i curiosi. Grazie. Grazie.